4 1 1 Lascia Sara, brava Sara, così E' attaccato 3 Inizi più veloce con le braccia Giulia, aspetta, vediamo Giulia, veloce, veloce, dove sta l'ombra della rete? No, vado a fengurare a questo, guarda, guarda Vai, appoggio con Giulia che spara in 4 Vai, buona Vai, la gestisci, non esiste che ti dico sì 4 Bene, invece Vai, 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 aspetta a partire Aspetta a partire Vai, via Ok Guarda a 0 Sempre 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 12 3 10 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2, io non posso sentire 3 come fare tu? poi cominciati Giulia a lavorare un attimino un po' più alta ok? però prima la fai passare prima io mi chiedo, se no lei deve ottenere la stessa palla oppure perde, finché non parte gioco si, bravo bravo ok se no, se te lo dice prima mi devi dare bene vai, vada 4 1 1 questo spingo 12 in giù e guarda la fronte vai, gli occhi anzi sempre in 4 spingi basta questo 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 guarda, questo io non so palleggiare vai, destra avanti via, vai, ti preoccupa spingi bene ok questa cosa che fareste in serie se la teneste così in difesa no, e non riesci a basso libera il gioco vai via niente ok dobbiamo arrivare il tempo della palla ragazzi non è la palla che state qualcuno siete voi che fate qualcosa del tempo della palla vai presa brava buona spingi giuramente guida vado sempre con questo si ma quindi qua io non salto a muro no, non salta mai vai sei guarda si tanto Grazie a tutti. la vista di forza è stretta via basta come sempre c'è è un po' 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 è un po'